Ciao a tutti, bentornati su Rosticine Kpop, io sono Giuna e sono con... Ciao Allora, ma questa qua è una nuova canzone comunque Si, cioè stanno facendo un comeback al mese Ma è un album? È un album nuovo Ah ok, va bene Perché... Ah però è Repackage È Repackage Sì sì, Repackage Ok ok Ah vabbè, Revalido è normale Cioè il Repackage dopo un mese l'hanno fatto un sacco di persone Cioè... Però veramente loro fanno un sacco di video musicali Cioè tipo ne hanno fatti un sacco Cioè a volte lo fanno della title Della sidetrack E di un altro track Poi magari ci fanno i... non lo so Tipo un video in cui cantano Quindi non lo so, c'hanno tempo libero i texti Quindi Fatema se stai guardando questo video Va bene Io ti ho voluto bene Ciao Fatema Innanzitutto ciao Ok, perché questa reaction ci è stata espressamente richiesta Allora, andiamo con l'user lover dei txt Ok, 3, 2, 1, via A un po' più dell'opinion A me piace un sacco questo nuovo logo della Big Hit C'è molta gente che dice che non gli piace il suono A me piace molto Rispetto a quello di prima che era Brrrrrr Oh Cribbio Cioè io in giù Brutto eh Schifo proprio Papera Mi Aste Mi fanno schifo le aste Che schifo le aste Su Bin Ah ecco a me l'ha dato il calcio Vai Si continua con il rock Mi piace Dai Ah ma state proprio cercando di conquistarmi allora eh Si 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 comunque Grazie Sì bravo Tirami una patatina Le facce sono bruttesime Ehi Ha rubato i soldi Capà Bad boy Uuuu 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 Quanti fanno con questo tipo di E io ne ho fatto la cosa bella che ti piace Siii E vedi E io l'ho detto che stanno cercando di conquistarmi Spero non cambi Nooo Che è questa cosa tipo di vista Mi piace tantissimo Ma è la questa canzone un po' malinconica Nooo Kaio non ti pare male Mannaggia Me Uuuu Vai ci salgo io su black camion Eeeh Macchina con i tatuaggi in scato Braccia E beh Oddio Io non sei brutto proprio Me Oh cute Cute Uuuu Ma Kaio non mi pare di rai Super cute Yass Ripa Kionni Buongiusta buono Eh babà Oddio no 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 Oh no Non stavo facendo niente di male dai No stavo facendo roccheggiando I brugnetti alla tastiera però erano un po' carini No ci sono rimasta troppo male però Stavo solo a fare la live Serio C'è una ragazza Non c'è tipo Mi sa che non c'è mai stata una ragazza nei video di dischi Eh devono crescere quello loro Credo Le tue Eeeh Mi Ah Buongiù la finisci farti male Un video di Olesionista Madonna comunque E dai Mi abbassi Mi abbassi Mi abbassi Ok tu non abbassi me Ma io non lo so Kylie fa stranissimo Questa è una lacrima No ragazzi Io non ce la faccio Ma se volete buttarli Potete anche darli a me Nel dubbio Cosa fai? Sono tipo in preghiera mistica Oh saldo Dio Non abbiamo dato a scantare Non c'è niente Non lo dire che tutto può essere Non lo dire Perchè tutti i video Oggi finiscono male Lo so che tu non sei familiar con queste cose Però Dio Non c'era niente Letteralmente niente per fare un incidente E invece Vabbè comunque la canzone mi piace un sacchissimo Quindi Yes Io non ho Cioè io veramente non lo so Io non ho firmato per questo Quando non hanno debuttato Cioè Stanno crescendo in una maniera troppo troppo bella E infatti sono contenta di ciò E io amo Stramo il fatto che loro hanno proprio il loro mondo Cioè è meravigliosa questa cosa E se E fanno cose che io non vedo mai Cioè nel senso Non lo so Vedo sta cosa e dico ok sui texti potranno fare sta roba Non lo so Cioè Vediamo Stanno dati i texti Non biasate su Bin perchè l'avete visto come vi sentite male Né tanto meno Yonjun E' il più stronzo di tutti quanti Io penso che Dovrei fare un approfondimento perchè non è possibile che dovrei scegliermi il più popolare Eh no Non è da me No non può capitare Non capita Non deve capitare e basta Yonjun ti piace pure se non ti piace A me non piace però mi piace Non è detto Eh però non è il tuo bias Non è quello il fatto Capito? Eh vabbè non è il mio bias perchè c'è Subino Dai c'è un coniglio che fa la vacca Ehm Alto E che mangia pane dalla mattina alla sera Cioè è troppo il mio Non posso scegliere Yonjun Per quanto sia una poverella E non è nemmeno il tuo breaker Eh vabbè perchè c'è Tayou Quindi E allora Cioè Non hai detto Capito che ti piace ma non lo voglio come bias Si ma è troppo il tuo tipo Non ci può Cioè nel senso io non vedo altri che siano il tuo tipo in questo gruppo O più di lui proprio no Cioè Va bene Cambiamo argomento Arrenditi Bene Vi salutiamo qui E mi raccomando Commentate Mettete mi piace O mandate il video a qualcuno Ehm Streamate i video originali E leggetela bio Leggetela bio perchè è importante Mi raccomando Leggetela bio Ok Ci vediamo alla prossima E ciao a tutti Bye bye Ciao 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 Ciao